Bentornati a questo nostro spazio dei racconti del Talmud. Quest'oggi mi vorrei soffermare su un aspetto interessante che riguarda alcuni personaggi di cui si parla nel Talmud. Personaggi particolari che con il loro comportamento, con i meriti del loro comportamento, hanno parte nel mondo futuro, assicurano la sopravvivenza del popolo ebraico, se non addirittura la sopravvivenza del mondo. Questi personaggi non necessariamente sono grandi maestri, a volte sono personaggi minori, a volte sono addirittura dei meriti sconosciuti. Quindi la pagina di cui voglio parlare oggi si trova nel trattato di Tanit, la pagina 21b. Si racconta che Abba il Salassatore veniva salutato ogni giorno dalla corte celeste. Abbaie veniva salutato dalla corte celeste ogni vigilia di Shabbat e Rava veniva salutato dalla corte celeste a Kippur. Ora bisogna immediatamente spiegare qual è il contrasto fra questi tre personaggi. Abbaie e Rava sono due grandi maestri babilonesi vissuti nel terzo secolo dell'era volgare in Babilonia. Innumerevoli sono le discussioni riportate al loro nome, sono due grandi decisori, sono anche coloro che in qualche modo fissano in modo definitivo il testo del Talmud dopo che sono passate generazioni che hanno discusso e hanno esaminato tutto il materiale. Loro pongono quasi una parola finale sulla tesura del Talmud. Chi è Abba il Salassatore? Un Salassatore, un medico, un medico dell'antichità. Eppure questo Abba viene visitato dalla corte celeste ogni giorno. Dice il testo della Tanit, Abbaie si demoralizzò perché Abba, questo medico, aveva dei contatti così frequenti con il cielo e lui solamente ogni vigilia di Shabbat. E allora chiese ma quali sono i suoi meriti? E gli dissero tu non riuscirai mai a avere quello che ha lui perché lui ha veramente dei meriti molto più grandi dei tuoi. E quali erano questi meriti? E allora ci viene descritto il personaggio. Abba riceveva sia uomini che donne ma separatamente. Aveva una veste con una tacca, con un'apertura sulla spalla e ogni volta che doveva fare un salasso a una donna le faceva indossare questa veste in modo da non rivelare le sue novità. Inoltre c'era nel suo studio in un luogo molto appartato, una piccola cassetta. In questa cassetta i pazienti mettevano il loro obolo e chi invece non poteva pagare non si vergognava perché la cassetta era un luogo assolutamente nascosto. inoltre quando Abba doveva fare un salasso a uno studioso di Torah non chiedeva a lui nessun compenso ma anzi alla fine del trattamento prendeva delle monete, gliele dava e gli diceva adesso va e rimettiti in sesto. Abba Ye decise di mandare due maestri per verificare se veramente Abba fosse così bene merito, se veramente le sue azioni fossero così buone. I due maestri andarono da Abba, lui gli diede da mangiare, da bere e poi preparò dei tappeti e li fece stendere per la notte. La mattina dopo i due maestri cosa fecero? Avvolsero i tappeti e li portarono via e andarono al mercato. e li incontrarono Abba. Chiesero Abba, Abba secondo te quanto valgono questi tappeti? E lui rispose secondo me valgono così e così. I due maestri dissero forse valgono di più. Abba disse no così io li ho pagati. A questo punto i due maestri gli dissero ma è vero sono i tuoi, te li abbiamo portati via, non te ne sei accorto? Che cosa hai pensato? E Abba gli disse nel momento in cui mi sono reso conto che voi avevate portato via questi tappeti ho pensato forse i maestri devono riscattare qualcuno e non hanno i soldi per farlo e non hanno avuto voglia di dirmi questa cosa. E dissero i due maestri vabbè adesso che sai che te li abbiamo portati via riprenditeli sono tuoi. E Abba disse loro no non li riprendo perché nel momento in cui mi sono reso conto che voi me li avevate portati via io stesso li ho destinati alla beneficenza e quindi non ne ho più bisogno. E si conclude il racconto dicendo che anche Rava si demoralizzò pensando a quanto fosse felice Abbaie che veniva visitato dalla corte celeste ogni vigilia di Shabbat. Ma gli dissero non ti affliggere perché per i tuoi meriti la città dove abiti è mantenuta in salvezza, in salute. A questo punto viene introdotto un altro episodio riguardante un altro personaggio e dice il testo Rabbi Berokai di Be Cosai si trovava al mercato di Be Lefet. Gli apparve Elia e Rabbi Berokai chiese a Elia c'è qui nel mercato qualcuno che abbia parte nel mondo futuro? Disse Elia no non c'è nessuno. Ma in quel momento vide passare un uomo che aveva scarpe nere e non aveva gli tzitzit agli angoli della veste. E allora disse Elia a Rabbi Berokai questo uomo ha parte nel mondo futuro. Ma quali sono i suoi meriti? Rabbi Berokai allora corse dietro a questo uomo e gli disse Rabbi Berokai gli disse dimmi per favore quali sono i tuoi meriti? E l'uomo gli rispose dicendo torna domani adesso non ho tempo e andò via. All'indomani Rabbi Berokai incontrò di nuovo quest'uomo e gli chiese di nuovo quali sono i tuoi meriti? Quali sono le tue buone azioni? E l'uomo gli disse io sono il guardiano della prigione e in prigione io tengo separati gli uomini dalle donne e per fare questo metto il mio letto in mezzo a loro in modo che non abbiano rapporti proibiti. Poi se so che una ragazza ebrea viene adocchiata dagli uomini stranieri io faccio di tutto metto a rischio anche la mia vita per salvarla. Una volta è accaduto che una ragazza ebrea che era già fidanzata fu adocchiata dagli uomini stranieri e allora cosa feci io per salvarla? Presi delle fecce di vino che sono rosse, le spalmai sulla sua veste e dissi questa ragazza ha le sue mestruazioni in modo che loro la lasciassero in pace. Non solo questo ma Rabbi Berokai chiede ancora all'uomo ma mi devi spiegare come mai vai in giro con le scarpe nere e senza il tzitzit? Bisogna sapere che le scarpe nere erano qualcosa che era un'usanza non ebraica e naturalmente la mancanza di tzitzit lo stesso. E allora l'uomo gli rispose dicendo vedi io vado avanti e indietro nel mercato e non devo far capire che sono ebreo perché così appena sento che è stato emesso un decreto contro gli ebrei sono il primo a saperlo e allora corro subito dai maestri, li metto al corrente di questo decreto, così che loro possano pregare in modo che il decreto venga annullato. Disse Rabbi Berokai ho capito ma dimmi ancora una cosa come mai ieri mi ha detto torna domani e gli disse l'uomo perché proprio in quel momento io avevo sentito che era stato emesso un decreto contro gli ebrei, io ho pensato tra me andrò subito dai maestri in modo che loro preghino perché il decreto venga annullato. In quel momento passano dal mercato altri due personaggi e Elia di nuovo dice a Rabbi Berokai vedi anche loro andranno nel mondo futuro, anche loro hanno parte nel mondo futuro. E allora Rabbi Berokai fermò i due personaggi e chiese loro e voi chi siete? E i due dissero noi siamo due persone gioiose e portiamo serenità alle persone tristi e se vediamo due persone che per caso sono illite tra loro facciamo di tutto perché si rappacifichino. Ecco con la visione di questi due personaggi gioiosi che spero che ognuno di noi possa incontrare sulla sua strada. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi saluto. Arrivederci alla prossima.